La Sapienza di Roma prima al mondo nella classifica dei studi classici secondo la Classics and Ancient History che si piazza con un punteggio di 98.7 prima in Italia in due aree tematiche, Arts and Humanities and Natural Childs. L'Ateneo di Roma ha il vanto di avere 14 primati nazionali in diverse materie, dunque la Sapienza che è la più antica, Università di Roma, svetta al primo posto per quanto riguarda i studi classici. E' stata infatti pubblicata l'edizione dell'anno 2023 del report chiamato QS World University Rankings by Subject che va ad analizzare queste 54 materie regruppate in 5 aree tematiche. La Sapienza è prima un primato importante per una delle università più antiche probabilmente di tutta Italia per ricordare i fatti che Roma 3 era più giovane. Se non ho malgrato, dico ma, iscrivetevi, commentate, perdonatela, diceva purtroppo, ho mal di volare. E questo è il risultato, ora la ringite. Ciao a tutti da Narro di Italia.